Buongiorno a tutti, io sono Luca Manzo, responsabile marketing presso la Martina Alfredo S.P.A. di Turate, in provincia di Como. Oggi ho partecipato al corso sull'autostima, e ho partecipato anche ad altri corsi, quindi a Performa Me. Mi sento di consigliarla come realtà, perché è un ambiente molto familiare, simpatico, dove comunque i corsi sono di qualità, e spero che l'azienda partecipi ancora ad altri corsi organizzati a Performa Me, e mi sento di consigliarla a tutti quanti.